Ciao a tutti, bentornati! Allora dunque, avevo questa tela 40x50 che avevo fatto tempo fa e non mi piaceva più, mi capita spesso, purtroppo, ma anche per fortuna nel senso che diciamo è facile poter recuperare una tela, si fa una colata sopra e quindi non è un gran problema. Ma comunque volevo dire, mi capita di avere dei dubbi anche a distanza di mesi ad esempio io faccio un lavoro, poi non mi piace oppure lo devo ancora osservare e dopo mesi magari vado a dargli dei ritocchi, insomma non sono mai del tutto convinta al primo colpo quindi capita che magari un lavoro venga ritoccato altrimenti ci vado ad eseguire una seconda colata sopra e questo è il caso di oggi, quindi tela 40x50 recuperata e andrò a terminare i colori che ho usato recentemente per un altro lavoro, quindi un bru di Prussia, un okra e un giallo limone per fare uno swipe su questa tela un po' più grandina con base bianca. quello che voglio fare è una specie di caos controllato, ossia come vedrete uno swipe che renda un po' l'idea di una specie di lotta, come è successo anche negli swipe precedenti. vi ringrazio in anticipo per essere qui e guardatevi il processo. grazie a tutti 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 grazie a tutti